Musica Arrivo a Rimini per quanto riguarda il Giro d'Italia e vittoria la quarta di Arnaud de Mar il francese si conferma re delle volate battendo ancora una volta Peter Sagan vincitore della tappa di ieri per quanto riguarda il Giro E siamo gentili ospiti della struttura del Giro E va avanti in concomitanza con il Giro Rosa oggi la vittoria di Roberto Ferrari e domani ci sarà un'altra tappa il Giro E che diventa alla sua seconda esizione sempre più interessante per quanto riguarda il Giro dei professionisti Joe Almeida mantiene la maglia rosa e credo sino alla crono di sabato nessun cambiamento ci sarà in classifica generale Musica Musica Grazie a tutti.